Dottoressa Folesani, qui c'è una novità in Emilia Romagna, di cosa si tratta? Allora, si tratta di Financer, un nostro progetto che ha avuto la nascita a Research to Business l'anno scorso, l'avevamo annunciato come idea e proprio invece a Research to Business 2013 è diventato realtà. È una piattaforma che abbiamo costruito con i nostri soci e con un gruppo di lavoro con banche e fondi di investimento che ha l'obiettivo di dare un'opportunità per le idee imprenditoriali e le imprese che stanno crescendo e che sono alla ricerca di capitali. Per il mondo della finanza di debito e di rischio la possibilità di intercettare e di vedere progetti già pronti perché da noi assistiti a presentarsi al mondo della finanza.